musica 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 puoi scherci di una carta quella che vuoi? vai, se non ti piace puoi cambiarla ok falla vedere pure tutti posso vederla anche io non ho un problema è una verifica puoi scherci di renderla unica ponendo una firma vai sciolta sciolta dove voglio dove voglio un logo quello che vuoi insomma qualcosa che sia abbastanza tua L stella passando quelle lube così tirare anche l'idea questa guarda finalmente guarda la tua birra no c'è solo una carta dentro la birra incredibile ora vai te ne offro un altro posso? vai vai ti ho messo la carta 9 di picche L stella appoggiatevi un attimo cazzo ma cazzo è che le salette no mi devi una birra non tutto ti ho messo la mia non ho messo la mia Grazie a tutti.